Bene, hanno votato tutti sì, dichiaro chiusa la votazione. 308 favorevoli, nessuno, contrario, la Camera approva. Votazione dell'articolo 8, ci sono interventi? No, dichiaro aperta la votazione. Bene, ci siamo, sì, scuvera, buona fede, chi altro? Nessun altro, dichiaro chiusa la votazione. 379 favorevoli, nessuno, contrario, la Camera approva. Adesso andiamo all'articolo 9. Prima di passare ai pareri e di porli in votazione gli emendamenti, tengo a precisare che l'emendamento Nicchi 9,50 ha questa dicitura il fondo. Preciso che il fondo a cui la proposta emendativa fa riferimento deve intendersi quello di cui è l'articolo 3, la cui dotazione non è più contemplata nell'ambito dell'articolo 9, per le votazioni che abbiamo. Quindi, in questo chiedo alla relatrice i pareri sul 9,50 e sul 9,1. 9,50 parere contrario, 9,1 parere contrario. Presidente, chiedo anche di proporre all'Assemblea la seconda correzione di forma. No, 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 quella è dopo. La facciamo dopo. Bene. Il Governo? Conforme, Presidente, alla relatrice. Bene. 9,50 Nicchi, pareri sono contrari. La quinta Commissione pure è contraria. Dichiaro aperta la votazione. Malpezzi. Grazie. 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 Grazie.